A sinistra del lavandino una graziosa libreria degli anni settanta sorregge sui suoi scaffali messi in bell'ordine un asciocamano arancione uno spazzolino da denti un stupetto di denti frecci un pettine color verde e i miei ripiani sotto una scatola arancione un venente degli ottiguanani un puro cotone che va ai rotoli di parte genita e i miei ripiani sotto una scatola e i miei ripiani sotto una scatola Ma proprio tra le piastrelle che si incuniano davanti alle altre c'è una che spunga più delle altre E' di colore rosso fiammeggiante E' possibile tramite essa fare delle eliminazioni Viva il Signore 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.